E lì, fa conto, vado in bagno, perché guarda, tre cantanti prima che devo cantare, vado in bagno, così mi metto le cuffiette, entro nel mio mondo e poi vado. Ma tu immagina la scena, tutta Italia che guarda Sanremo, Bugo e Morgan che litigano, soprattutto immagini i viggiotti in bagno, capito? Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Decore Podcast, anche questa sera dal Riverside di Roma. Siamo a Piazza Sempione, ospite graditissimo Enrico Niggiotti. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E delle birre, e del mangiare delle birre. Ci porti una testimonianza toscana che noi cercavamo e che ci mancava, vogliamo allontanarci un po' da Roma, siamo stati a Roma, siamo stati a Milano. Non siamo venuti in Toscana, però la Toscana è venuta da noi, quindi vedremo che se nel tuo racconto ci porterai un po' Decore Toscano, come si dice Decore in Toscano? Di cuore, no, di cuore. Di cuore. Sì, di cuore, cuore. Solitamente iniziamo con la definizione che Wikipedia dà dell'ospite, in questo caso proprio l'incipit che dice che Enrico Niggiotti è nato a Livorno l'11 giugno dell'87, ed è un cantautore e chitarrista italiano. Tutto giusto? Ti ci rivedi? Sì, sì. La manteniamo così? Sì, sì. Me le scrivo, me le suono, me le canto, quindi... Quindi cantautore ci sta. Sì, mi dà sempre un po' l'idea del pesante il cantautore, perché poi se pensi a cantautori, pensi a... Poi pensa di Andrea, penso delle statue, delle cose immense, pensa a Lucio Dalla, per cui compositore forse... Compositore di musica e di testi, cioè, non so, sembra di darsi troppa importanza cantautore, capito? Mi piace andare a vedere i commenti più votati sotto i videoclip musicali, e allora sono andato a vedere un tuo videoclip, L'amore è, e c'è il commento votato dice, questa canzone ti entra in testa e non esce più, oltre ad essere scritta benissimo, hai dato delle speranze a chi ama il cantautorato italiano, quindi ti si attribuisce anche da fuori, non è solo una cosa di Wikipedia, quindi mi sa che questa cosa del cantautore la devi accettare, seppur ci sono una serie di mostri sacri alle nostre spalle. Sì, no, è che delle volte hai sempre paura poi di... Sembra stupido dirlo, però sembra quasi di offendere qualcuno, o di non sentirti all'altezza di alcune parole, quindi precauzionalmente dico, guarda, io faccio il compositore, scrivo le mie canzoncine, mettiamolo così, così nessuno mi può rompere i coglioni. No, oggi sei ufficialmente un cantautore. Cantautore, ok, basta. Titolo assegnato. Senti, noi iniziamo dall'infanzia, quindi la tua infanzia è stata, in che città vieni? No, io ho solo fatto Livorno praticamente, parte ora per le promozioni, e io sono sempre stato a Livorno. Ce l'hai un ricordo da bambino a Livorno, un ricordo de core, cioè proprio un flash, un'immagine, te piccolissimo, tra l'altro ho visto che in uno dei tuoi ultimi video di Ninna Nanna tu hai messo delle immagini... Sì, di me da piccolo anche. Di te da piccolo. C'è per te un flash di te da bambino, di quelle da lì, quando eri piccolissimo, che ti ricordi, legato alla città di Livorno? A un posto, a un quartiere, a una strada? Ma sì, stavo per affogare una volta ai Pancaldi, che è questo, è il bagno storico di Livorno, che è proprio uno dei primi bagni, e lì stavo proprio per affogare, non so come ho fatto, ero piccino, c'era presente una buchetta, sono entrato, e la mia mamma disperata, oh, e quell'amico che era accanto, che era più grande, mi ha preso tipo i polpi, però per i capelli così, ho alzato, e quindi un po', diciamo, forse quello ricordo. Non lo so perché... Quanti anni avevi? Ma ci avrei avuto quattro anni. E ti lasciavano ammare da solo? Sì, no, era lì davanti, vabbè, noi sì, siamo dei pesci a Livorno, però, no, mi ricordo tante cavolate, anche da piccolino, insomma, le cazzate si facevano, poi c'erano ancora quei personaggi, ma come presumo ci siano anche a Roma e ovunque, quelli che magari erano personaggi un po' folcloristici, anche storici della zona, io mi ricordo c'era uno da noi che, qua non c'è nessuno di Livorno, però si chiamava Cibero, che era questo vecchietto che stava sempre fuori dalla finestra, e noi tutti, penso, i ragazzi di Livorno, ma tutti, tutti, ma anche i veri più grandi di me, c'erano delle leggende incredibili, e noi ogni volta si passava sotto, ci si fermava sotto, come lui stava fuori dalla finestra a guardare, noi si diceva Cibero, quante? Perché noi si diceva che si masturbava sulla gente, si è chiesto sulla gente e gli diceva Cibero, quante? E lui ti cominciava a offendere la mamma, parenti, qualsiasi cosa. No, era una cosa poi bruttissima, se la vedi oggi è una cosa brutta, però sono quelle cose che quando fai da più piccolo, quando lo fai una volta, sono quelle gogliardate del cavolo che chiunque ha avuto, penso qualcuno nel quartiere che comunque sia una cazzata che facevi. Ma sei ancora amico di quei ragazzini con cui facevi queste scorribande? No, ma no, ma tutta Livorno la faceva, c'era una cosa... È come se c'è un gatto nero che ti passa la strada, ti tocchi, c'era una cosa così. No, no, era veramente una cosa... Cioè, ti giuro, infatti, per quello la gente... Quindi se magari qualcuno ci ascolta di quell'epoca... No, a Livorno tutti, non c'è nessuno che non ha urlato Cibero, quante? Cioè, non è che l'offendevi, ma cazzo, stava sempre alla finestra, cioè, delle volte sembra... Ci aspettiamo dei commenti dei livornesi sotto ai video, in cui ci raccontano le loro esperienze di Cibero. Cibero, perché lo roscano tutti. Cibero era... Poi non so nemmeno perché si chiamasse Cibero, cioè... Era una cosa che dici, lo fanno tutti, la faccio anch'io. Però non era in realtà un tirare qualcosa o prendere in giro. Era questa roba che passavi in motorino, Cibero quante, e lui ti urlava, però non è che ti fermavi. Prima così ne parliamo subito. Prima cena, cioè, ci hai detto... Io ti ho chiesto di questa diatriba tra Livorno e Pisa, tanto a fine, se parli o con Livornese o con Pisano, sta cosa esce sempre fuori. Ma io pensavo che fosse collegata comunque al calcio. Quello, è una cosa storica. Sì, però io pensavo che era solamente, diciamo, in quell'ambito lì, nell'ambito calcistico. Invece, diciamo, questa non simpatia è proprio... Io ricordo che ogni volta che torno da Milano a un treno, la fermata prima di Livorno è Pisa, quindi voglio toccare. Senti, ma te da piccolo ti vestivano a Carnevale? Allora, io mi ricordo, diciamo che a parte i vestiti rai, perché io avevo la mia mamma che era fissa... Io sono sempre stato un bimbo che, a differenza di altri bimbi, da piccolino, ho sempre avuto i capelli lunghi. Per la mia mamma è stato un trauma, quando me ne sono tagliati per quattro anni, rasati, perché il mio nonno mi diceva, se ti rasi i capelli, se ti tagliate i capelli, ti do sordi, perché c'avevo troppo lunghi, secondo loro. E alla fine mi feci, vabbè, basta, i solitori, dammi i soldi, mi riette in alzata poi alla fine. Quanto ti ha dato? A me, pensa, io non potevo più una lira da mio nonno, perché io... Eri già così da bambino. Ma non ci ho mai avuti tanti capelli. Penso 20 mila lire. Però la mia mamma fu un lutto incredibile, ma roba quasi si mise a piangere, non mi parlò, era stato come un affronto, come se l'avessi mandato a fanculo la mia mamma. Invece a me solo aveva tagliato capelli. Quindi, in realtà, mi ricordo, tutti questi vestitini da piccini, che la mia mamma si divertiva a farmi prendere in giro, mi pigliava per il culo anche il bidella a scuola capelli, perché mi tagliava i famosi capelli a pentolino. E quindi avevo un po' questa capellatura strana. Però mi ricordo che si impegnò. La prima volta che le chiesi proprio di mascherarmi, ero all'elementari, e fece questa maschera incredibile, dove però, penso sia stata la prima volta che mi hanno realmente truccato come se andasse in televisione. Perché le chiesi di mascherarmi dal lupo mannare, o dall'uomo lupo, che era il mio personaggio preferito dei film horror, no? Mi garbava l'uomo lupo, non l'ho mai capito perché. E quindi lei mi svegliò, tipo, se devo andare a scuola all'otto, mi svegliò tipo un quarto alle sei. Mi cominciò a truccare, perché c'avevo proprio questi peli, che non l'ho mai capito da dove venissero. Però ero pieno... Cioè, ti ha attaccato i peli in faccia. C'avevo tutti i peli in faccia. Cioè, sembravo... E non erano i tuoi. Non erano i miei. Ancora, non puoi dire, non ce l'aveva lui. No, però non so se è andata la parrucchiera, le levate, perché erano peli strani. Non so come affatto. Cioè, io non ho mai visto la maschera dell'uomo. Erano capelli, spero. No, spero anch'io. Madonna, sta roba non l'avevo mai sentito. Cioè, una maschera reale. È quello che ti dico. Da dove sono venuti questi peli? Come te li aveva attaccati? Cioè, ero solo io, tutta Livorno, e c'aveva la maschera. Con la colla, con cosa? Ma non mi ricordo, ma mi ricordo che mi deva una noia, poi perché poi... Cioè... Sì, però no, sta uscendo. Però il vestito era bellissimo. E tra l'altra cosa c'aveva anche la capillatura proprio a tipo uomo lupo, perché c'aveva questa frangetta. Mia madre deve essere fissata con Beatles, perché sono cresciuto con questa frangia. Era l'uomo lupo con la frangetta. Sì, no, è... Madonna, ma c'è una foto a testimonianza? Devo trovare, ve la mando, ve lo giuro. Veramente. A me ci piacerebbe poi postarla. No, no, quella è brava. Così mi... No, però era... Con la tutina mi ricordo tutta nera. Non mi ricordo se mi mise anche il sangue, perché comunque dovevo anche sprigionare un po' di cattere. Che era più da Halloween, però Halloween ancora non si festeggiava all'epoca, perché non era... È una festa recentemente. Ma Halloween è una festa che, come tante stronzate ammiriane sono arrivate in Italia, è una delle ultime. Perché mi ricordo era piccolo Halloween. Non c'era, non c'era. Neanche quando ero piccolo io esistevo. Ma io sinceramente tuttora... Ecco, mi è capitato quest'Halloween. E lì mi è dispiaciuto, perché avendoci ora due figlioli, mi è un po' dispiaciuto, che mi hanno suonato alla porta per i caramelli. Ma io potevo dargli una bottiglia di vino, non c'avevo nulla. Sì, ho fatto finta di non esserci, solo che c'erano cani, c'erano due cani che erano un pazzite. E quindi, dai, apri! Apri, facevo. Ero lì che mi sono vergognato come un cane, i bimbi che avevano sei anni, sette anni. E non gli hai dato niente. E non c'avevo nulla. L'anno prossimo attrezzate però l'anno prossimo, che lo sai. E adesso che c'hai... Uno mi ha detto, aprici vero! Allora, già iniziamo a dire, tu hai avuto, da poco hai avuto due gemelli. Sì, ci hanno due gemelli. Quindi già non gli hai fatto, il primo Natale non gliel'hai fatto passare in granché, diciamo. Possiamo dire sta cosa. Non hai fatto l'albero di Natale? Non ci avevamo perché stavo... Praticamente ho fatto i lavori in casa. Non ti devi giustificare. No, però diciamo, non sono proprio a casa mia, poi si è fatto i tre giorni di Natale, siccome ho preso la febbre, ho finito l'ottura e ho preso la febbre, ho attaccato la febbre ai gemelli che è la cosa che... Io penso che averci l'esorcista in casa o un indemoniato è molto molto meglio. Poi doppio. Doppio con 38 e 7, te con la febbre, non do, è una cosa... E poi l'altra cosa che a me è piaciuta molto è che non gli hai fatto il regalo. Lì, no, non ci ho pensato. E tutti arrivavano con questi regali. Giustamente hai detto, ma che io facevo a fare? Loro non so, ricordo. È stata un po' una giustificazione. Neanche te lo possono rinfacciare. No, ma fa capito, non sapranno mai. Babbo Natale magari piangono perché vedono detto, no, evitiamo il trauma. Però, io dico, quando tutti mi portavano i regali, poi la sera, Halloween e Natale, ricorda. Halloween e Natale, cioè, Halloween per forza perché mi sono sentito un verme. Cioè, anche far finta di... Mi sembrava di essere infame, cioè, far finta di... Fai silenzio. Zitti, zitti, zitti. Sì, a fani, basta. Perché non volevi da... Sembrava non volessi da... Un panino col salame. C'avevo solo alcolici, poi alla fine, perché poi non c'avevo nulla. Cioè, non sapero nemmeno cosa poi mangiano i primi di otto anni, però li davi... C'avevo pensare di col salame... Mangiano quello che mangiano qua. Sì, è vero, è vero. Però, non lo so, vabbè, aspetterò il prossimo anno. Senti, Livorno, da quando eri bambino, oggi l'hai vista cambiare oppure è un po' più protetta? Cioè, Roma è una città che è cambiata tantissimo. Un centro più piccolo, con molti meno abitanti, che ancora vive di più di tradizioni, di comunità. Tu mi hai detto, te, i tuoi genitori, tua sorella, siete tutti in un raggio molto vicino, nel senso, è una città che cambia meno negli anni. Ma, appunto, l'Italia con le mode, tra virgolette, dell'oltreoceano. Cioè, qua, se vedi quello che andava dieci anni fa, viene dieci anni dopo qua. A Livorno viene tipo quarant'anni dopo. Quindi la trappa non è ancora arrivata là? Arriverà tra qualche anno? forse è arrivata anche la trappa, forse qualcosina sì. Però è particolare a Livorno perché comunque, io ci sto, per me è il posto più bello. Io sono grato ai miei genitori perché sono nato in un posto in cui sono voluto restare. Non sempre può capitare questa fortuna che uno nasce in un posto dove dice, ah, questa è casa. Perché poi la casa non è dove nasci. Certo. Ma è dove ti senti a casa. Io lì mi sento proprio a casa. E Livorno alla fine ha questa fortuna e sfortuna di essere una città-paese che fondamentalmente è un po' tipo il Portogallo, secondo me. Cioè, che se sei in pensione ci stai da Dio. Se sei più giovane vedi sempre del bicchiere mezzo vuoto. Che poi alla fine d'estate ci stai bene perché c'è il mare che è bellissimo. però poi comincia a dire però che palle non c'è nulla. In realtà poi c'è tutto perché alla fine abitassi o chiunque si lamenta abitasse, non lo so, a Roma presumo che anche qua bene o male vai sempre nei soliti posti nonostante avete un sacco di scelta. sta venendo e fa no, che cazzo dici? Ci vedo! No, no, è vero, è vero. Poi uno a Roma vive il quartiere, uno pensa nella grande città che spazi in tutta la città. Ma infatti la cosa bella secondo me che mi sono innamorato un po' di Roma è il fatto appunto che prima l'ho sempre vista come vengo però mi ricordo Trastevere, mi ricordo anche alcune zone, anche Cinecittà ad esempio mi ricordo che sono veri e propri quartieri. Certo. Per cui è bello anche, non ti senti più dentro una metropoli, dentro una città enorme ma in un certo senso parlo da me che sono a piedi non devo trovare parcheggio sono libero ti senti comunque in un piccolo paese cioè in un piccolo paesino. Però anche come cioè la scelta di fare l'artista e restare in una piccola città come Livorno non è una scelta che fanno tutti perché sai molti prendono e vanno nelle grandi città dove magari c'hai più possibilità c'hai più Ma senti lì io non ci credo a queste cose però tanti vedevo che andavano via ma tanti anche di altri ragazzi che conosco cioè andavano a Milano e dice no sai perché se vai in quel locale poi ci puoi incontrare quello grazie al cazzo è vero ma bisogna vedere se quello ti considera e poi comunque la tecnologia di oggi se ti scrivi io posso scrivere una canzone qua poi chiaro che vada a Milano mi pagano loro il treno mi pagano loro l'albergo vengo a Roma no perché anche quando hai iniziato hai comunque iniziato da restando a Livorno io non ho mai non sono mai non ho mai voluto trasferirmi ma nemmeno di prendere una casina e venire a stare io ci ho pensato rifarla ogni tanto ci penso prendo una prendo una casa prendo un appartamento una stanza o qualcuno e magari qualche amico che suona proprio e magari come appoggio vado lì 4-5 volte al mese in più magari però io sto bene a scrivere io ho la mia casa davanti al mare io scrivo lì io sto bene lì perché devo andare quando hai fatto cose di dominio pubblico quando ci vado mi pagano quindi sarei scemo quando hai fatto cose di dominio pubblico in televisione come Sanremo X Factor cose di questo tipo hai sentito l'appoggio della città cioè i Livornesi un po' ti coccolano come loro artista senti che sei riconosciuto come oppure non è una cosa che perché dipende pure da come nelle città si vivono questo tipo di cose c'è chi fa finta di niente c'è chi invece ti esalta e diventi il primo cittadino a proposito dopo di farci una domanda proprio su questo ma lo senti te l'appoggio della tua città ma guarda da una parte sì dall'altra parte no nel senso che non che non ci sia un appoggio ma la cosa bella è che cioè io sono sempre cioè io sono rimasto la solita persona ovviamente anche perché non è che sono basco rossi però cioè io vado negli stessi posti sto con le stesse persone delle volte faccio le stesse cose che sarebbe bene non fare però diciamo è rimasto tutto uguale per cui bene o male anche la gente è abituata a vedermi sempre c'è il momento in cui tipo dopo Sanremo che avevo portato la canzone che ho scritto per il mio nonno che si chiama Nonno Hollywood e lì c'era una cosa dove io dico Livorno che mi manca la Livorno che sai raccontare che erano la Livorno verace dei racconti del mio nonno che quella non c'è più ma come non c'è più quel faramento di storia di ogni paese città in cui viviamo quindi come i vostri nonni romani era diverso il tutto ma erano diversi anche loro secondo me l'atteggiamento proprio quindi bene o male lì c'è stato proprio un input che ha creato questo filo conduttore cioè anche io vi avrei detto cazzo te stai dicendo proprio qualcosa che vivo io appieno che l'hanno sentito in tanti in Italia ovviamente perché era un discorso più generico però quando canti Livorno a Sanremo e ti batti il cuore lo fai perché ti viene naturale ma chi è lì che ti guarda crei cioè dici cazzo questo è come me poi magari l'indomani ti manda a quel paese uguale c'è nel senso non cambia niente noi siamo così cioè non esiste poi dice nessun profeta è morto come un altro che ha detto cioè non so del genere quindi fa sempre strano suonare nella propria città a me fa sempre una cosa molto strana però credo che ci sia amore odio non c'è mai stato perlomeno non l'ho mai percepito io l'amo da morire Livorno però ci sono dei livornesi che mi stanno sui coglioni quindi presumo che anch'io starò sui coglioni a qualcuno senti una domanda che facciamo sempre a chi ci viene a trovare in base alla città in cui vive se tu domani ti svegli e sei sindaco di Livorno qual è la prima cosa che fai e non ti puoi dimettere c'è una cosa che vorresti fare nella tua città una cosa che non ti va giù una miglioria un progetto un festival da sindaco poi fa un po' come te pare forse cavolo sai che a parte non vorrei essere il sindaco cioè mai quello abbiamo capito nessuno è qualcosa che comunque poi soprattutto in una città come Livorno che è piccolina tra virgolette i commenti negativi li senti proprio sai a Roma dici vabbè spengo il cellulare non guardo internet e a Livorno li senti subito però non lo so a Livorno è bella così forse l'unica cosa che gli manca è proprio perché è così bella magari di farla conoscere un po' di più però forse cercherai di farla conoscere un po' di più non tanto con cose che non c'entrano con Livorno ma magari proprio con portando magari come quando vai nelle isole quando vai in Sardegna cioè portando proprio la tradizione livornese come cult del turismo ecco cioè non farei una qualcosa che porta gente perché c'è quella cioè dare un valore alle persone che vengono perché comunque io credo molto nei posti che non anche voi state a Roma quindi ci avete Colossae ci avete qualsiasi cosa però io credo molto anche nelle persone che stanno nel posto quindi io sono innamorato dei piccoli paesi del bar sport cioè che è il bar con sette vecchietti che parlano magari in dialetto è una cosa che a me piace molto e le tradizioni secondo me traditore appunto il latino vuol dire camminare continuare a camminare secondo me sono delle cose che ogni posto dovrebbe portarle avanti proprio come centro turistico un po' come fate voi come fanno le grandi città secondo me Livorno avrebbe tanto da portare quindi forse porterei più di Livornicità fuori per cercare di portare gente da fuori più a Livorno ecco in questo senso qua senti come c'è arrivato quel bambino che rischiava da affogare e non farei il McDonald's lo butterei giù posso dirlo? butterei giù McDonald's come c'è arrivato quel bambino che è rischiato da affogare e è stato ripreso per i capelli poi è stato vestito da lupo mannaro quel bambino quel ragazzo che strillava nel senso qual è stato il tuo primo approccio con la musica io provo a scrivere una canzone nel senso un conto è ascolto un conto è cioè qual è stata la prima canzone che hai provato a scrivere allora la prima canzone che ho provato a scrivere non so perché perché poi diventerò il cantautore dei parenti però la prima canzone che ho scritto era per la mia mamma che era un periodo ma eh ci avevo che in realtà io ho cominciato a suonare la chitarra tardi a 13 anni e e quindi mi sono innamorato volevo fare il chitarrista ma non piaceva studiare quindi era tutto molto suonato e basta mi piaceva il blues ero fissato e quindi era avevo quasi una sorta di rigetto come succede a quell'età per la musica italiana no? per qualsiasi tipo di musica italiana pensa che io non ascoltavo Vasco e per me Vasco è Dio però in quel momento lì proprio era solo c'è la solo di chitarra l'ascolto ah non c'è la solo di chitarra vaffanculo così era proprio è categorico per cui scrivevo in inglese ma con un gruppettino noi c'avevamo un gruppo il primo gruppo che ho avuto si chiamava Big S Big S i grandi culi non c'è si faceva a me calbava il blues il batterista non so cosa riga il bass se vi consapevole le menzionà il bassista rigava il punk il cantante suonava il flauto traverso quindi c'è eravamo persone messe a caso infatti è stato però è stato divertente e la prima canzone appunto l'ho scritta più là verso i 18 anni e mi ricordo che c'era ma c'era un piccolo problema e boh mi venne come come un come come se fosse appunto il un'autoconfessione un autoconfessarti un qualcosa per eliminare tra virgolette questo questo dolore che c'hai comunque perché poi alla fine quando scrivi scrivi sempre un po' non tanto nel mezzo perché quando aiò vabbè tranquillo non è successo niente quando scrivi in realtà secondo me per meno per come scrivo io che non te ti state rammazzato vai 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 no 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 tutto a posto c'è dell'acqua su dei cavi no 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 è tutto cioè non mi sembra tutto a posto no è tutto a posto è tutto a posto andiamo avanti allora fate finta di niente quando scrivi perlomeno io scrivo abbastanza cioè scrivo sempre per un motivo nel senso che non perché devo scrivere o perché ho bisogno cioè non meno perché ho bisogno di scrivere perché mi viene proprio di getto di scrivere e di solito quando fassi un momento brutto non riesci mai perché cioè non è che te puoi distogliere il fatto che soffri è impossibile cioè non è un fiume in piena che non lo fermi no se te stai male stai male è più facile allora aberti ma nemmeno sei birre perché poi alla fine stai peggio perché poi il dolore diventa anche un po' un cuscino delle volte però ti viene da scrivere quando poi metabolizzi tutto cioè quando tutto o finisce è finito o è verso la fine quando ormai si è abituato a questo tipo di odore ecco e lì mi ricordo che mi venne automatico scrivere questa canzone che tra l'altro era anche bellina era per la mia mamma ma è stata pubblicata no perché non era così bellina però era la prima canzone però mi è rimasta la roba dei parenti perché poi lì poi partì l'ansia che dice oh questa è scritta canzone per la mamma per il nonno e ti ho detto sul cantatore per me per me manca il mio zio Gianni manca il mio zio i figli abbiamo fatto la nina nanna cioè diciamo stiamo abbastanza coperti se volete l'ansione su un parente se mi chiamate mon fan cugino le cose senti e invece quando è che questo fatto di scrivere canzoni fare il cantante diventa una cosa che ti rendi conto che piace anche agli altri cioè prendi coscienza e dici forse questa cosa la posso fare sul serio perché tanti ci provano tanti lo fanno poi smettono oppure non è una cosa da poco che a un certo punto cioè come è andata che percorso hai fatto quando hai iniziato a percepire che forse le sapevi scrivere le canzoni le sapevi anche interpretare ma io credo che forse il passaggio vero e proprio è stato quando ero un po' più grande perché diciamo che da piccolo ero molto troppo troppo istintivo nel senso che anche nello scrivere non mi rileggevo mai cioè scrivevo e andava bene mentre invece da più grande verso i 28 anni che non lo facevo come mestiere facevo un magazziniere figurati e praticamente quello che scrivevo ho cominciato poi a rileggermi e questo fatto di rileggermi mi faceva capire meglio anche le immagini che scrivevo ci sono delle canzoni che scrivi subito io ho l'amore è ad esempio è una canzone mia che l'ho scritta subito proprio mi è venuta di getto non ho hollywood è una che più o meno è venuta così ci sono quelle canzoni che ti vengono di getto però non vuol dire che sono per forza le migliori ci sono alcune canzoni che magari hai piacere proprio a riguardarti il testo dicendo sempre le stesse cose però magari puoi cambiare un'immagine io cerco sempre di semplificare di non essere mai difficile perché non è che abbia questa capacità linguistica incredibile però alla fine cerco sempre di lavorare a immagini però non è una cosa che scegli ripeto lo scrivere la canzone perlomeno per quanto mi riguarda io non ho questa capacità di dire oggi scrivo una canzone puoi dire tutti i giorni sto con la chitarra vado in studio e faccio e questo sarebbe la cosa più professionale da fare io però sono un inetto e aspetto di star male scrivo faccio così questo è il tasto delle domande scomode di Danilo da Fiumicino nel tuo che però deve funzionare così bravo non mi ero scordato sono passate feste capito abbiamo sperimentato nel tempo che se quando Danilo preme parte un applauso spontaneo poi la domanda è bella poi la domanda viene più e poi in realtà lo tagliamo nel podcast sembra che veramente parte l'applauso spontaneo quindi se stingo il tasto dovete applaudire forse ok aspetta facciamo sistemare loro prima perfetto è spontaneo è spontaneo forse forse è un po' troppo non è credibile nel nel tuo percorso aspetta mi sa che bisogna cambiare il capo del mio microfono grazie a cazzo non credo sia per l'incidente di percorso se era su pacque o era tanto fate voi no 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 ma non credo sia per qualche altro motivo va bene dai tanto interrompiamo quale altro motivo ci posso fare perfetto no la domanda era nel tuo percorso artistico hai partecipato ad amici ed eri sì ed eri molto giovane la domanda è ma perché tu ancora c'eri in quel ancora c'erano in quel tempo ma perché vi mettevano quelle tutine orribili ragazzi cioè con quella tutina tu potevi essere pure Roberto Bolle ma sembravi in teletubbies perché io poi sono andato a rivedere poi all'epoca eri anche rasato all'epoca la mia mamma era disperata era doppiamente disperata ma vi obbligavano a mettere quelle tutine quando arrivavano allora io ero l'unico che perché c'erano in realtà poi le tutine c'era uno sponsor dietro perché c'erano credo fosse di marca di quella marca lì e c'erano le scarpe all'epoca era danza penso che sia fallita cioè non lo so una roba cioè vabbè non la diciamo io mi ricordo c'erano queste scarpe nere che tutti c'erano vestite uguali c'erano mi ricordo non mi ricordo se la tuta era diversa da colori questo non me lo ricordo però mi ricordo c'erano scritte io ho visto sono andato a cercare le foto c'erano tutto un completo blu che sembravi quella era del serale bravo quella era del serale un pastello enorme sembravi però vi obbligavano ad andare a mettere le verifozze ero la squadra blu era la squadra blu la squadra viola non sono esperto beh quella del pomeridiano c'avevo scritto anche il nome se me lo dovessi scordare che mi chiamavano lo giuro e mi ero lì che avevo le scarpe che tiravano loro però io perché non se ne accorgeva mai perché in diretta non ti portano di nulla io andavo con le mie scarpe bianche si vedeva benissimo però era come l'unia osa che potevo portarmi di mio ah quindi tipo come scaramanzia perché no proprio ero scomode piccolo atto di ribellione che non voleva nulla però si erano più scomi mi chiamavano di più con le cose mi ci stavo meglio no quella roba dei tutine non mi è mai andata giù cioè in generale però perché ora non le fanno ora sono vestiti normali chi è che guarda amici qua c'è qualcuno penso che ora sono vestiti normali come sono vestiti adesso ad amici normali casual vabbè che adesso sono aderentissimi sono soprattutto le ballerine mentre prima c'era c'era uno steduto molto comode sono adesso aderenti aderenti no anche prima erano erano aderenti c'erano le culotte ah non mi ricordo mi ricordo solo sedute blu è incredibile sembra un podcast dei maniaci quando parlavano parlate i culotte ma senti ce l'hai un ricordo dei core ad amici una cosa che il più de core quello che dici proprio questo per me vabbè io lì sono lo sanno tutti mi sono autoeliminato prima della finale perché ero insieme una ragazza e insomma è successo un po' di casino misero in sfida e io mandai a fanculo tutti e andai via dissi no io la sfida non la faccio e vado via e questo forse è il momento sicuramente più di core perché è proprio un qualcosa che fai senza pensare dicevo il contratto discografico con una casa discografica molto importante ma tu a quella cosa l'avevi pensata o è stata così io l'ho sempre detta io l'ho sempre detto guarda se mi mandate in sfida con lei me ne vado l'ho sempre detto e la gente pensava dicessi una volata perché comunque cioè poi più che vai là e più che realmente diventa cioè diventa quasi lavoro perché comunque è promozione poi ho firmato il contratto discografico quindi era una cosa c'era gli occhi addosso stava diventando veramente un lavoro perché non è che lo fosse prima e gli ho detto vaffanculo vado via e gli autori diciamo sono stati no io c'è un rapporto bellissimo con loro che così è rimasto mi ricordo c'era Luca Zanforin che era un ragazzo che piangeva ma anche Maria cioè è stato un momento vero umano ma io sono sempre stato così non l'ho fatto contro il programma assolutamente però l'ho fatto per una cosa mia cioè io non sfido vabbè risicuro ma probabilmente capace l'avrei fatto anche con ora dico sì forse anche con un mio amico non lo so sono fatto così io sono proprio fatto così e quindi c'hai questo ricordo forse sì forse diciamo che è il momento forse più umano che ho vissuto lì dentro che ho fatto io ecco proprio sì invece il successivo in impatto con l'altro reality che era diciamo X Factor eri già più pronto eri più ma quando c'hai ero più grande quindi avevo già beccato una batosta sai io amici sono andato c'avevo 20 anni per me io sono a Bonifab cioè stavi in televisione quindi non è che mi ero montato la testa assolutamente però avendo ricevuto subito il contratto bene o male ti sembra quasi semplice tra virgolette quando poi finisce e come è capitato a me che ho fatto quella cosa lì chi mi ha fatto il contratto ha fatto ciao cibero ciao via e allora a quel punto capisci che rientrare in quel mondo lì è forse quasi impossibile quando te fai un talent e non ti va bene questa è la realtà di fatti perché in quel momento lì discografico proprio fare un talent soprattutto in quel momento lì che era 2009 erano proprio i primi anni in cui cioè i talent erano amici era proprio un posto dove la casa discografica andavano lì e c'era l'amoroso l'anno prima c'era successo proprio il primo boom che le case discografiche si accorgevano che dal programma amici potevano uscire dei cantanti che comunque avrebbero venduto cioè pensa Alessandra l'amoroso l'anno prima e quindi stiamo parlando ancora Emma e lo dì e lo dì anche però lo dì ad esempio lei è uscita ma credo che non so se è arrivata non ha vinto comunque amici perché dopo poi alla fine succede che nonostante le avversità o comunque tutti dicano guarda hai già fatto amici ti sei già tipo bruciato allora a quel punto è difficile riconquistare la come sia la curiosità o comunque sia la voglia di investire su di te su una casa discografica per cui lì rimani veramente a piedi e lì ho detto vai è finita e non ci credevo più quindi era come se avessi spostato da una parte l'idea di farlo poi continuo a farlo scrivo 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 succede che nel 2015 ora non mi ricordo come mai però mi notano questa casa discografica che era la mia attuale l'Universal mi mandano ascolto le mie pezzi mi mandano a Sanremo Giovani entro a Sanremo Giovani con questa canzone che si chiama Qualcosa da Decidere però Sanremo Giovani non era più come adesso erano quattro io lo feci con conti erano quattro concorrenti una roba del genere ti esibivi alle nove e praticamente succedeva che era te contro di lui l'altro contro quell'altro non mi torna forse se erano sei insomma no se erano genere però era prima era una gara giovane poi chi vinceva Sanremo Giovani si esibiva la finale era così e io mi ricordo che persi arrivai tipo terzo e anche lì finita poi mi ricordo quell'anno però fu bello perché andai in tournée con l'Analini laviri tutto la tournée e poi vedevo che non c'era spinta da parte della casa escografica quindi venni via e rimasi di nuovo senza contratto a quel punto dici ho provato a Famici sono venuto via è finita ho fatto Sanremo è andata non bene perché non ho vinto perché stai Sanremo Giovani non è come ora Sanremo che lo guardano tutti lì era già diverso cioè per i big si ma per i giovani meno tant'è che è un po' particolare successo e cominciai a fare il magazziniere lavoravo in campagna nel mio nonno insegnavo un po' di chitarra mi sentivo un po' affranto devo essere sincero perché comunque sia ti si sgreato l'anzonio per due volte dici non c'è due senza tre è solo un detto invece poi io volevo andare via mi ero fidanzato da qualche anno con la mia attuale ragazza e ci abbiamo due cani e quindi ho detto cazzo cosa me ne sto a fare qua io comunque scrivo le canzoni provo a darle a quegli altri andiamo alle Canarie c'è sempre questo fallino nelle Canarie non ci sono mai stato in vita mia però c'è questo fallino di andare alle Canarie non ho mai finito magari facevano io non ci sono mai stato ma ce l'hai tuttora perché ci hai detto prima no ora a febbraio ci dovrei andare poi ci vai a febbraio ci devo andare per la prima volta ci porta i figlioli ci porta i figlioli non ci sono mai andato non pensa se ci mette fa schifo ma infatti mi auguro perché non so io ho detto andiamo alle Canarie si apre io volevo aprire questo barrettino sulla spiaggia e ho detto cazzo ci sei cani si lasciano liberi io a felli lunghi tutti i surfistelli ed è uguale si vendono le birre io c'avevo proprio in mente vendo le birre e basta cioè vuole patatine no vaffanculo birra tipo le coro si può dire le marche sì sì io volevo vendere la corona tipo non so trovavi magari un accordo con la corona riuscivi a trovare qualcosa tipo a pochissimo avevi solo birre sulla spiaggia tipo ciringuito sulla spiaggia ma solo birra nient'altro quindi prezzo fisso e andavi era un'idea chiaramente che era messa così nella testa di un luco che aveva visto le canali per fortuna ti ha detto bene come cantante no infatti è che avrei fallito subito però poi alla fine nacque mentre pensavo a questa cosa nacquero cominciarono a nacquero delle canzoni che erano diverse da prima e la prima fu appunto la morea e lì sì no però questa canzone mi dà delle vibrazioni diverse secondo me non capivo cioè capivo che c'era qualcosa di diverso rispetto alle canzoni che avevo scritto fino a quel momento quindi la scrittura migliorava sempre di più dissi no io ci voglio provare a sto punto faccio provare a fare come si chiama X Factor e da lì andò bene anche X Factor comunque arrivai terzo ma è stato un terzo diverso perché poi è andata tutto sono qua quindi io dico è andata abbastanza bene e visto che stiamo parlando delle due esperienze diciamo principali delle cose poi c'è stato invece il Sanremo tra i big i Sanremo tra i big il secondo è stato sfigatissimo perché c'era stato il covid dopo due minuti quindi è un po' stato strano il primo fu fu con nonno Hollywood e quella fu io l'ho vissuto in maniera diversa tutti e due i Sanremo e quello secondo me è in base anche alla canzone che porti perché comunque è come se tu andassi tra virgolette ovviamente con mille virgolette come se tu andassi in guerra no? e quindi quella la canzone che porti è un po' come se fosse la corazza che ti può proteggere di più io con nonno Hollywood mi sentivo una corazza che mi proteggeva ma non tanto non ho mai pensato alle classifiche non mi è mai fregato niente però mi sentivo al sicuro con quella canzone e infatti l'ho vissuta veramente bene mentre invece l'anno dopo l'ho vissuta un po' diverso forse perché c'era stato troppo il paragone con la canzone dell'anno prima l'anno dopo portai una canzone d'amore forse più leggera però comunque me la però però in tutte e due tu sei andato bene comunque in tutte e due i Sanremi ma in tutte e due i Sanremi che hai partecipato tu sono successe cose che poi sono rimaste sono rimaste nella storia perché nel primo c'era stata diciamo la famosa polemica quella di ultimo che si incazzò che sbroccò per io lì non l'ho vista per il terzo o secondo post terzo o secondo no secondo secondo post terzo il volo erano arrivati e invece l'altro era il Sanremo quello di Morgan e Bugo che ero dietro quindi proprio tu porti bene a Sanremo perché non so se non so se è bene o male secondo me è bene oggi è caduto un bicchiere cioè si è rotto il microfono però sono cioè sono stati a livello mediatico dei Sanremi incredibili perché poi hanno fatto un ascolto con un successo assurdo sì ora la cosa di ultimo fu più che altro il dopo perché mi ricordo era come si chiama la conferenza stampa quindi è stata più una cosa social tra virgolette però se ne è parlata tantissimo Book & Morgan è proprio stato lì però io purtroppo la scena ho visto la scena finita perché era un bagno e cioè ti sei perso un momento storico che potevi salire perché stavi in bagno perché che poi ci hai detto che non stavi a fare niente in bagno no anche perché non posso fare cosa facevo ah no ah no ma tu immagina la scena tutta Italia che guarda Sanremo Bugo & Morgan che litigano soprattutto immagini i vigiotti in bagno capito questa è una cosa che nessuno vuole è una cosa inedita vabbè sarei un idolo comunque mamma mia prima di esibiti cioè tu devi salire sul palco subito dopo no io praticamente succede così a Sanremo che è piccolissimo il teatro ovviamente dietro ci sono non ci sono nemmeno i camerini c'è questa loro chiamano green room green room room in senso io in inglese sono di chewing gum e big bubble e hamburger sono verdi se stanzi no non sono per niente ma le chiamano in un modo strano cioè chiama la stanza vai nella stanza però no se vedi green room call queste cose qua vabbè chiamiamola green room la stanza verde e praticamente vai lì e sei tutti cantanti bene o male ti fanno venire giù un pochino prima che canti tipo una quarantina un'oretta prima per non ritrovarti poi tutti insieme giù quindi alcuni stanno sempre su in camerino solo che quando ti ritrovi con sette cantanti poi c'hai discografici cioè c'è comunque sia una trentina di persone e bene o male io credo che le energie poi in una stanza si respirino quindi ti contagiano no e siccome c'è molta ansia io ho detto no io ci posso stare qua perché anche io c'ho un po' di ansia perché cantare Sanremo non è cioè non è tanto perché canti in televisione o perché il teatro sia così grosso perché il teatro è un teatro piccolo e lì fa conto vado in bagno perché guarda tre cantanti prima che devo cantare vado in bagno così mi metto le cuffiette entro nel mio mondo e poi vado faccio che per entrare in bagno tanto c'era Morgan e Bugo dovevano cantare entro in bagno dopo un minuto e mezzo mi vengono a bussare subito muoviti 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 c'è da andare sul palco ma come c'è da andare sul palco c'è Morgan e Bugo invece no c'è solo Morgan e infatti ho visto Morgan che aveva successo poi vedi dopo perché mi raccontavano ma ci fu un po' di però insomma è stata una scena epica sicuramente sì che tu non hai visto purtroppo non l'ho vista cioè ero lì era lì perché poi la cosa bella che in questa stanza verde c'è la televisione ma non c'è l'audio quindi ti ritorna un po' rimbombo del teatro su però non senti niente per cui avrei visto solo la scena senza audio che sarebbe ancora più bella cioè quindi è stato no vabbè comunque scena epica davvero incredibile e a prescindere da questo che è un ricordo particolare ce l'hai un ricordo decore a Sanremo cioè Sanremo per te è un posto decore è un posto che comunque ti dà un pensiero positivo quando sicuramente nonno Hollywood proprio cantare quella canzone lì è stato proprio e la prima sera c'erano i miei genitori mi ricordo che tra le altre cose la Sony che era la mia casa discrafica dell'epoca li trattò proprio io non so se lì tu l'hanno pagato una stanza ma ci avevano il van se mi hanno anche trombato quella sera il biglietto non l'avevano ma tu sei un po' come Max Mariola comunque nel senso che per chi è un appassionale dei core podcast Max Mariola è andato sempre a parlare alla fine dei sesso mi sembra che pure te diciamo ma io lo seguo tantissimo infatti c'è qualcosa che va a comuna sono un suo discepo quindi diciamo Max devi chiamare cucinare no chiamami Max sarebbe bellissimo poi gli mandiamo un messaggio e gli proponiamo questa combo e quindi tutto ci avevano ci avevano giustamente credo che ci avessero sì no poi è stato comunque anche per loro pensa mio babbo e lì a Sanremo i genitori vedono il figlio di Sanremo che è una cosa bellissima e ti rende sicuramente orgoglioso penso sia una delle poi che possono sentirsi orgogliose di me però era forse la prima volta che li ho guardati gli occhi di mio babbo che mi ha guardato per dimmi ma è testa di cazzo sai invece mi ha guardato proprio bene poi cantare l'anzone per il mio nonno che comunque era era stato forte il suo babbo quindi è stata una cosa molto bella no no quello è stato il momento più bello forse quando ho bracciato i miei genitori sono venuto a trovarmi in albergo ma tu canti a Sanremo c'hai dei posti per te in sala cioè c'hai degli accrediti che ci mettono là ci mettono mi madre e mi padre oppure cioè come funziona devono comprare lì devi comprare i miei genitori chiaramente non hanno pagato non so se trovarono non so se hanno pagato una stanzina che era fuori però non credo però io credo che ogni casa discografica ci abbia tipo alcuni biglietti credo però non lo so non voglio dire nulla quell'anno lì però i miei genitori non hanno pagato il biglietto questo sicuro al 100% no io mi ricordo c'è più chiaro il secondo io ho una cosa che mi ricordo ecco io credo tutti dicono no cosa hai fatto l'11 settembre eccetera tutti si ricordano io non mi ricordo cosa ho fatto quell'11 settembre e dove ero però mi ricordo quando è successa la roba del covid cioè io mi ricordo precisamente quando chiusero Milano ieri a Roma perché ero a fare domenica in ero dalla Venier e il giorno dopo dovevo andare a Milano in studio c'avevo il treno e tutto mi chiamarono e mi dissero c'era già nell'aria questa roba del covid però ancora è come se non so se vi ricordate non si sapeva cosa fosse e praticamente mi ricordo che mi chiamarono andò a Milano e mi disse guarda domani non venire a Milano ho detto come non venire a Milano non venire a Milano perché hanno chiuso Milano hanno chiuso Milano hanno chiuso Milano vabbè vado in stazione indomani mi prendono il treno per Livorno e mi ricordo che termini era lunedì perché era domenica domenica in ero di lunedì era piena di gente treni pieni io mi ricordo che il treno mio era zibillato cioè pieno di gente e tutta la gente cominciò a vedere la prima volta la mascherina zibillato no no perché è bello Livornese zibillato e da che viene zibillo che è lo zibillo pieno satollo una cosa leggera scusa non voglio interrompere la toscana abbiamo vesti sicchè si dice no no però zibillato non avevo mai sentito mi stemmiamo e usiamo l'arcaico però usiamo volevo fare una verente sul toscano zibillato non me lo potevo zibillato è bello vabbè treno pieno zibillato no io mi ricordo che vedevo la gente con le mascherine alcuni con le mascherine non capivo e mi ricordo che c'avevo una sciarpa me la mesi a mo penso di mascherine non so ero in treno la gente mi sembrava di dire dove cazzo sto andando perché era sentivo i vestiti tossi i vestiti rumori e mi era venuto il panico poi arriva a Livorno e dissi ah bene mi ricordo che dopo dopo sei giorni piano piano questo virus chiaramente è venuto ovunque mi chiamarono la casa discografica e mi disse noi siamo io ero andato a pranzo con i miei amici siamo a pranzo sul mare a Castiglioncello perché era un marzo incredibile quando ha fatto il covid ragazzi c'era il tempo più bello della storia sole incredibile bellissimo io mi ricordo che era a pranzo al mare e era un pranzo importante perché si vestava ho fatto Sanremo eccetera con i miei amici tornai la sera a fare un aperitivo in questa via che era piena di gente e mi chiamò la casa discografica e mi disse guarda fai un video io non lo sapevo ma stavano per dire che il giorno dopo ci avrebbero rinchiuso tutti quindi mi disse guarda fai un video di dire alla gente di stare in casa di non uscire io ero ero nella via penso più movita di Livorno col cocktail in mano e per un attimo dall'incoscienza si si lo faccio mi ha detto il mio amico fammi un video ero davanti alla sala cinesca e ho fatto che cazzo vuoi ma poi scusa perché mi eri Bertolaso perché dovevi far video te che c'era i giotti dice state a casa è una cosa che io non ho mai amico immagini io immagini a casa stai a casa e te sei un po' la gente dice perché stai a casa non lo so ma l'ha detto ogni giottile questa è una cosa che non ho mai capito ma io che cazzo sono non so perché devo dire a casa una persona però all'epoca c'erano quei video con resta a casa ma io mi ricordo questi vecchiettini i poverini sotto sotto casa mia io sto sul lungomare a Livorno e poveracci io ho pensato sempre a questi signori anziani che la cosa più bella ci avevano di prendere di giornare andare a piedi mettersi sulla fanchina e vedere il mare davanti a casa mia c'era tipo l'esercito veramente e fermavano questi vecchiettini li prontolavano andavano a casa la gente dalla finestra devi andare a casa devi stare a casa era diventato questa me l'ha detto Niggiotti o quello se no mi ricordo mi risonavano al balcone se lo ricordano se lo ricordano io devo fare una domanda importante cruciale che vorrei fare da oggi in poi a tutti gli ospiti a tutti gli ospiti ma a te ti si forma la lana dentro l'ombelico cioè nel senso perché io questo è un grosso problema che c'ho anche tanta sai che non c'ho mai no non c'ho mai fatto caso ma non ti dico di controllare perché forse quando ti metti le felpe nere non ti succede a te no ti lavi si no la tolgo pure cioè faccio una sorta di manutenzione proprio no no proprio magari un po' per oggi non lo sai a te ti succede non particolarmente allora so io ancora un problema quindi una domanda che non posso fare scusaci queste so quelle cose quando a tavola ti ho detto dice delle cose era questo ma forse è il tipo di indumenti che tu acquisti nel senso forse compri roba di scarsa qualità ah lui si per quello o la lana non lo so a voi a chi si forma guarda quanti due vedi io poi lo metto in tasca e poi lo butto successivamente non lo mangi tipo caramella io penso a cavolo fa tutti sta domanda no no sì facciamolo anche ai prossimi perché mi sembra comunque un momento altissimo senti ma invece stiamo parlando di musica e oggi esce un tuo singolo è uscito sì sì è uscito e voglio dire cioè quando esce un singolo è una cosa comunque ti senti quel brividino di quando hai fatto sentire una canzone nuova cioè quando esce un pezzo tuo dici prima non lo conosceva nessuno adesso almeno chi mi segue cioè nel senso iniziano ad arrivare i primi messaggi le prime cose ma sì no è bellissimo te lo vivi con un po' di emozione il giorno d'uscita di un singolo sì no è diverso poi cambia un po' perché comunque quando lo fai magari in un posto dove c'hai un riscontro subito di tanta gente è più emozionante perché poi le risposte le vedi subito ci sono canzoni che poi le risposte le puoi vedere anche dopo un po' di tempo che è strano ci diceva prima al tavolo una mia canzone ad esempio che era nel primo album insomma di tre anni fa è venuta fuori ora che non era nemmeno un singolo sui tiktok ma ci fanno un balletto no 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 anche perché è una ballad no però ci metta le foto tipo cofinanzati di queste cose qua che canzone è? si chiama tu per sempre applauso però è una canzone che però è diciamo è rinata con ma è una canzone che live è sempre stata come se fosse la cantavano più forte delle altre canzoni e quindi di impatto avevi questa cosa che dici cazzo però questa però non ho mai non ho mai pensato chiaramente che potesse andare al di fuori del mio pubblico perché comunque non essendo un singolo sono quelle canzoni che sono un pochino più nascoste dentro gli album no quindi sono più per chi ti segue per cui è stata strana il fatto che magari gente che non sapeva manco chi sono io metteva questa canzone a ruota nelle foto no ma meno male che ogni tanto esce fuori qualche canzone veramente d'autore ma se non ha noci mi dici il culo magari mi fa cagare no no però magari una canzone non diciamo famosa per il pubblico per quindicenne no è strano per sedicenne questa è la cosa che ti tocca comunque muove veramente cioè è assurdo questa cosa qua una canzone che è uscita tre anni fa che la conoscono quelli che mi seguono davvero poi diventa così è pure assurdo perché solitamente escono tutte quelle dei neomelodici capito quindi se tu guarda che il gabbiano povero gabbiano quella per me Nanzo non è decore lo sai quella o bambola bambola no io sono bellissimo è stupenda potrei portare quelle come canzoni decore io non ci ho pensato magari la inseriamo perché tu hai passato un periodo a scrivere e adesso sei uscito con delle cose nuove perché sei uscito prima con Ninna Nanna come primo singolo e adesso con In Punta di Piedi prima hai parlato diciamo della canzone che è diventata virale su TikTok Alessandro accennava anche Ninna Nanna anche quella sui social sta andando fortissimo nonostante tu non sei così social cioè non non sei molto attivo sui social no no sui TikTok un po' di pomo perché ho trovato il mio meccanismo nel senso di cioè se devo fare una roba che tipo suono allora mi torna più facile e allora io ho il mio spaziettino in casa cioè ho questa cosina qua che la metto davanti metto la sedia davanti che poi lo sto facendo tutto in casa della nonna della mia ragazza perché noi ci siamo trasferiti per quello ti dicevo quella è la mia colpa dell'albero di Natale perché non siamo in casa nostra perché casa mia è finita ma mi hanno cominciato a montare questo ascensore che la Torre Eiffel l'hanno fatta in meno tempo è otto mesi otto mesi che siamo fuori casa non lo so è vergognoso ma c'è l'ascensore in casa tipo Fedez no era no nel condominio ah ok pensavo che fossero più piani dici sai vado al letto e prendo l'ascensore e comunque immaginando una cosa così Livorno Niggiotti e comunque nel condominio che fa l'ascensore ti hanno buttato fuori casa io paura e soldi non l'ho mai avuti eh paura e soldi mai avuti per fare l'ascensore nel condominio ti hanno cacciato di casa cioè no Federini no solo che al secondo piano conduce meglio e poi hanno stretto le scale per cui è anche impossibile vabbè non è che ti porta tutti e due insieme no però cioè no è impossibile sì siamo siamo trasferiti lì no in realtà si sta facendo ma fai fatti tua però no no ora questa settimana sono stato lì ad esempio perché era la settimana di festa la mia ragazza non lavorava quindi era più semplice e però insomma io mi sono dato la vacanza anch'io però quando devo scrivere faccio le cose anche io ho bisogno insomma di no comunque il video andatelo a vedere sui social chi non l'ha visto quello in cui tu canti la ninnananna i due gemelli è diventato virale e ha avuto un grande successo però loro due non dormono cioè ma non dormono mai cioè io ho dato sta cosa bellissimo un video veramente bello però proprio effetto ninnananna anzi sono sono attratti da te benvenuta la febbre a 39.8 quando è 39 io mi immagino con un gemello dice all'altro c'è stanni giotti che c'è sta accanto ma chi sta dicendo ma chi dorme però la cosa che hanno loro è che ti guardano ecco quello quando suoni non lo so i figlioli fanno così non so se mi guardano per disprezzo però ti fanno così mi guardano se suonano stanno così e quello ha detto sono gemelli uguali o diversi no sono diversi sono gemelli diversi gemelli diversi ma no tu ti fanno se cagliiamo i gemelli diversi no però sono eterozigoti quindi sono si assomigliano come fratelli ma cioè si assomigliano come fratelli sono fratelli ma non guarda mi dai faccio mi dai lo mi dai lo spunto per fare la rubrica cosa cercano le persone su google di te non so ti sei mandato a cercare su google no non so nemmeno usare ti ripeto io chewing gum hamburger escono sui motori di ricerca insomma mescolano un sacco di cose le persone cercano di te questo la prima domanda è perché Enrico Niggiotti ha lasciato amici e ce l'hai e ce l'hai raccontato però lo vogliono sapere tutti poi in che anno ha fatto amici Enrico Niggiotti ti ricordi l'anno hai detto 2009 2009 già l'avevi detto consiglio come si chiamano i gemelli di Enrico Niggiotti questo qua Maso e Duccio che sono nomi perché Maso è una stucia è un'astucia è un'astucia sa tutto cioè che quanti soldi hai in banca Niggiotti quanto è alto Enrico Niggiotti questo sono 82 sono altissimo però poi le altre due domande sono bellissime lo scrivono l'altra domanda che appare sotto è come si formano i gemelli di Zigotti ma perché scrivono ste cose e poi l'ultima domanda ma andatela a vedere perché poi sembra che dico cavolato secondo me qualcuno ha da un venti chi è no andatela a vedere ragazzi chi è il più grande tra i due gemelli di Niggiotti oggi l'ho fatta vedere anche a mia moglie perché se no se ho detto sembra un pazzo che la gente scrive ste cose e niente queste sono le cose che cercano di te marcatroia però chi è il più grande dei due Maso Maso è 9 mesi e 13 kg enorme forse tu dici il più grande come forse come stazza però non lo so ma no effettivamente c'è un più grande c'è quello che è uscito prima diciamo allora quello è il contrario è vero è quello che esce prima Maso è uscito prima è il più piccolo ma dopo uscì prima Duccio c'è uscito proprio di sfondamento mi giuro ha sgomitato no una cosa infatti lui sembrava all'inizio che fosse più prepotente Maso invece Duccio è proprio il diavolo e lui è buonissimo a parte è fissato col mangiare se deve mangiare si incazza ma è buonissimo invece quell'altro è cioè non so non so cosa sarà fra 14 anni però è è già tremendo per cui poi gli vengono i denti e hanno questi dentini piccolissimi piccolissimi e ti ride e ti guarda anche minaccioso con la sfida e hai detto ma c'è paura no ma sai delle volte hai presente la bambola assassina quando sei piccini film horror cioè non so magari se poi non lo so sai bisogna oggi non bisogna stare tranquilli in nulla quindi è bene avere paura di tutto senti entriamo nella sezione cinema decori ci hai portato due film uno che in qualche modo parla della città in cui vivi e in cui sei nato perché hai portato Ovo Soto di Virzi Ovo Soto è il capolavoro perché è Decore per te perché descrive sempre per la stessa c'è lo stesso motivo cioè quando cioè per me Decore è quando la prima volta è quel sapore lì che c'ha la prima volta ecco perché poi alla fine tante cose ti possono piacere se poi le riguardi se poi le ricapisci invece ci sono quelle cose che appena le vedi ti lasciano e Ovo Soto è stato perché comunque sia ho visto per la prima volta Livorno io avevo otto anni quando è uscito però era diventata proprio una cosa forse anche familiare cioè mi ricordo con i miei genitori si andò si prese il panino in via di Casoli da Giovanni che è uno storico paninano di Livorno e si andò al Cosmopolita anche non c'è no come cazzo il Cosmopolita non mi ricordo come si chiamava il cinema lì che non c'è più a vedere il film tutto insieme quindi è l'unico momento penso poi Ovo Soto è uno dei quei film che se lo trovi cioè facendo zapping e lo vedi non riesci a smettere di vederlo anche se l'hai visto poi dura pochissimo cioè io l'ho rivisto ultimamente mi sembra perché l'ho messo su Netflix l'ho visto credo l'abbiano messo su Netflix o su quell'art comunque l'ho rivisto e mi sono meravigliato perché era tantissimo che non lo vedevo e ci ho fatto caso che dura alla fine credo un'ora e 27 dura poco invece pensavo durasse molto di più insomma ha dato proprio un'immagine di Livorno vera ed è bellissimo è veramente fatto bene e poi sei andato oltreoceano perché hai portato uno dei quei must del cinema che è quei bravi ragazzi Fellas di Martin Scorsese del 1990 uno anche dei miei preferiti in assoluto io quella ecco per me quel film perché ti dico e decori perché secondo me la scena di De Niro al pub con Sunshine Overlove The Cream che fuma la sigaretta è spettacolare per me De Niro è uno è inarrivabile quella è la tua scena preferita sì io adoro quando affetta l'aglio con la lametta ah lì ho capito è una roba pazzesca è bellissimo è veramente bello che poi io non ho mai ma ecco io forse una volta in America ma me l'ha fatto un ristorante al Barese vedi non so a cosa c'entrava però la pasta con le polpette che dice sia una pasta italo-americana io a parte lì non l'ho mai mangiata che loro non la mettano se fosse nostra italiana ma che cazzo la mangia la pasta alle polpette spaghetti e meatball no per loro è un veramente ormai è diventato un piatto americano perché italiano io non credo nessuno la mia nonna la pasta alle polpette non l'ho mai fatta in Campania fanno la pasta al forno ci mettono quelle polpettine è vero è vero senti allora restiamo nella sezione cucina facciamo una modifica al format qual è la tua ricetta decore cioè tu cucini io sono bravissimo a cucinare dacci la tua ricetta calcola che noi ci siamo invitati a casa tua quindi se mo' dici pure che sei brava a cucinare ovviamente io sono un fissato della cucina romana cioè a me la carbonara la griscia e la cacio e pepe sono sicuramente una delle più buone poi sono forse le prime la prima pasta il primo primo che cominci veramente a capire come devi cucinare perché comunque sembrano semplici ma l'errore si è ampliato l'angolo quindi sono quelle che mi hanno fatto un po' più a culturale alla cucina più o meno a farmi la piacere perché poi sono uno scazzone però poi Max Mariola è arrivato nella mia vita quindi e quindi da lì è nata questa voglia che ogni tanto mi piace mettermi a cucinare io ho fatto questa specie di griscia con i pomodori secchi calabresi questo è buonissimo perché ho scoperto che a Roma c'è la carbonara con i fichi è possibile? si no è una roba ma mangiata è una roba che è uscita ultimamente più che altro la griscia ci mettono i fichi ma è una monnezza per quanto mi riguarda questa è una statifica romana è una sorta di macedonia no a Roma si fa la carbonara diciamo vegana ma non è vegana la usano per non usare il maiale si fa o col manzo o con le zucchine però qua roba con i fichi è proprio con il manzo è proprio vegana qua roba con no coscher scusa non vegana e qua roba con i fichi no 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 quindi il tuo cavallo di battaglia invidi un amico a casa carbonara carbonara la so fare veramente la potrei fare anche davanti a Max io mi aspettavo io mi aspettavo il caciucco il caciucco con 7c no quella guarda è difficile no caciucco caciucco con 7c noi il caciucco il caciucco comunque è difficilissimo da fare noi lo fanno più le nonne ed è buonissimo ed è uno dei pochi pesci che lo mangi poi col vino rosso quello è buonissimo è difficile da fare bene e poi dopo c'è o baci la tua ragazza o non baci la mai nessuno vita tua perché c'è il pane agliato ma è agliato vero è buono no a parte non dormi io poi c'ho un problema con l'aglio mi piace da morire l'aglio sott'olio infatti la mia ragazza mi infama quando poi lo prendo l'avevo trovato in montagna era proprio un barattolo di aglio sott'olio quindi da da livornese doc però fai la carbonara è questo sì perché quella contaminazione sì perché non lo so sono più tipo il pesce non lo faccio spesso perché anche se mi dicevano no ma fallo perché non è così difficile io ho sempre paura un po' di sbagliare riesco a mangiarlo ma tipo il mio papà è molto bravo a farlo lo fa il mio papà o cucinarlo da chi lo sa fare io la carbonara che non la fa quasi mai nessuno bene ho trovato quel mio spazio lì capito mi chiedono proprio la carbonara carbonara per quattro quanti ovaci metti sette mila no io faccio sei tuorli uno intero vabbè bella no 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 perché mi hanno invitato tempo fa a cena abbiamo mangiato questa carbonara un po' pesantina poi a fine eravamo in quattro fa lo sai quante ova ci ho messo tredici dice anzi no quattordici una era per la padella si dice no perché se la mangia la padella perché fa l'uno veramente sì quattordici ova ma t'ha preso quattordici per quattro persone se ne fa per sei è una roba no no è successo è successo poco tempo fa senti poi c'è una grandissima idea imprenditoriale di Danilo da Fiumicino sempre in ambito food che ti esporrà a lui io voglio aprire la paninoteca a decore dove ci sono i panini di tutti i personaggi che sono venuti qua quindi ci sarà il panino niggiotti lo chiamo proprio solamente così niggiotti che come cosa c'è nel niggiotti come fossimo all'autogrill no i niggiotti dammi i niggiotti tipo come quando vai a prendere il camogli ste cose allora aglio si brava allora io farei crudo a parte il palino com'è cioè che tipo di c'è il palino devi scegliere il palino io sfrutto le vostre idee io farei il palino velo proprio sfilaccino lungo quello un po' croccante scroccariello crudo salsa verde e melanzale sott'olio che c'è l'aglio basta tre ingredienti buono però è buono un applauso al panino niggiotti dai panino niggiotti questo si può mettere ultimamente bello ultimamente gli ospiti tutte idee insomma un po' scariche questa questa ti è piaciuta perché quel tocco di salsa verde non te l'aspettavi si si ti ha spiazzato ma lo sai cosa ho scoperto allora e questo me l'ha fatto scoprire la mia ragazza e io pensavo no che schifo poi magari è così però l'ho assaggiato una volta è buono la maionese sul prosciutto crudo oh lo sai che è buono ma di che silenzio no qualcuno ha detto buona qualcuno ha detto no è buono ti giuro io l'ho provata e anche io dicevo no che cazzo fai è buona e un'altra cosa che ho assaggiato che però è una cosa proprio di Pesaro e questa me l'ha fatto le osi estremi le fanno assaggiare la famiglia della mia ragazza la mia ragazza è il mio socio su babbo che lui è di Pesaro la pizza rossini la rossini quella con l'uovo e la maionese non l'ho mai mangiata allora anche lì dicevo no ma che cazzo è mangiata è tipo una pizza rossa uova sode e maionese non si fa proprio quando vado a mangiare da loro con la pizza su gelata con la gherita e via però lì la fanno proprio con la maionese fatta in casa credo io non ci sono mai stato comunque è sempre uovo sode e maionese se proprio non c'è niente dentro il frigorifero fai la pizza rossini è un piatto tipico di Pesaro e lo proveremo lo proveremo io non l'avevo mai sentito ho visto ho visto che hai dei tatuaggi hai molti tatuaggi qual è stato il primo tatuaggio che ti sei fatto qua su Linguine e c'è scritto S.R.V che è Steve Revo che è il mio chitarista preferito invece le iniziali e diciamo il più brutto quello di cui magari te ne penti che dici cioè me lo tolgo oppure no me lo tengo perché ricordo allora c'ho qua benazzata non mi arrivo a dormire più dove ce l'ho insomma da qualche parte qua c'ho tipo un segno che un mio amico si era preso con la macchinetta dei tatuaggi si era con gli amici tutti un po' festeggiati a casa sua e ha cominciato a tatuare io il più furbo l'ho detto fammi una E ti dico solo che la E sembra un 3 quindi questo è stato il tatuaggio però lo tieni per ricordo mio amico si è fatto tatuare proprio una cosa che ha dovuto tappare con un gatto però si è un ricordo no tengo un ricordo però è piccolino piccolino forse è quello è un ricordo dei cori pure quello si bravo si senti ma abbiamo parlato di cibo abbiamo parlato di cinema ci piace parlare anche di libri e qua ritorna secondo me una connessione con quello che dicevamo prima perché tu hai scelto un libro di Bukowski musica per organi caldi quindi pure là diciamo che c'è una direzione specifica che un faro diciamo acceso nella notte e questo no no ci fa piacere penso che sei forse il primo che porta Bukowski a ma in realtà io non sono un un grande lettore cioè in realtà non l'ho mai letto praticamente niente io ho un piccolo problema io sono dislessio quindi ho difficoltà ma però insomma non mi concentro in alcune cose però Bukowski fu uno dei primi che lessi diciamo tra virgolette e mi dette proprio dicevo cazzo ma io pensavo che fosse noioso leggere i libri e lessi subito il primo libro era questo qua musica per organi caldi ma io non so nemmeno chi fosse non mi ricordo perché cominciai a leggere questo racconto mentre lo leggevo c'erano tutte queste scene di lui di donne di rubriaco di lisse e dissi cazzo ma allora i libri possono essere anche più divertenti e lessi lì poi mi stancai subito e non sono più andata avanti però non so se perché è l'unico o perché è quello più bello però c'è quello lì però hai scelto un bel libro comunque che fosse l'unico o meno comunque è un libro Bukowski è un poeta a me piace tantissimo i poeti li ho letti dopo ma a Damirini l'adoro però l'adoro più ascoltare magari cioè mi è presa molto la voglia poi di conoscere anche vedendo anche le interviste di Bukowski però era un po' all'età 20 anni che c'hai quella roba che che vuoi vedere c'è ti affascino un po' queste cose qua ecco che personaggi un po' così senti ce l'hai un superpotere che vorresti avere puoi scegliere qualsiasi superpotere cioè proprio tutto da supereroe oppure una cosa più quotidiana dice io ho sempre sognato d'avere che ne so la supervelocità se lo muro io forse ma non è per essere io vorrei non morire nessuno cioè non fa morire nessuno perché alla fine in quel momento lì se nessuno morisse anche la cattiveria che c'è sarebbe meno cattiva cioè nessuno potrebbe uccidere nessuno potrebbe essere stronzo tutta la vita cioè capito quindi la cosa che mi piacerebbe a me è che non morisse nessuno però ci sarebbe un problema di sovrappopolamento cioè questo effettivamente non ci ho pensato cioè saremmo un po' troppi ma pure di disoccupazione dei cassamortali ma sai io da quando ho aperto il mio pub alle canali sono diventato milionario e da lì capisco che i sogni è un po' un sogno alle canali però sì è vero non ci ho mai pensato quindi dici grazie è la prima cosa che mi è venuta in mente saremmo un po' stretti però dici io meglio no allora quelli che ci sono adesso nel mondo non dovrebbero più morire poi non ci serve i prossimi che nascono sì no nasce più nessuno fermiamo è un futuro distopico va bene hai nominato Steve Ravogan che tra l'altro è bello creare le connessioni tra le puntate ci sono due connessioni con te il primo che abbiamo parlato di te in una puntata per una gag perché praticamente abbiamo intervistato Gaemon ah sì ah no vabbè c'è il fatto che la tua compagna la compagnia Gaemon si chiamano nello stesso modo nome e cognome ci abbiamo scherzato un po' tutto il tempo di questo parallelismo tra loro perché anche lì sulle ricerche su Google praticamente veniva fuori che o te o Gaemon vi eravate rubati la ragazza capito invece poi non è così ma è una cosa che quando ci si vide ci si disse proprio o me lo sai che la mia ragazza molti su Google vanno a cercare se è la stessa persona perché pensano capito in questo e poi non so penso che ci restano male che sono due persone due persone diverse diciamolo e l'altra connessione è stata che tu hai portato Steve Ravogan che è stato anche portato naturalmente ad un altro grande chitarrista che Alex Britti che ci ha venuto a trovare qualche puntata fa e ci ha parlato tantissimo come Steve Ravogan evidentemente anche tu nel rapporto con lo strumento sentire Steve Ravogan è stato un come Steve Ravogan sempre per usare una metafora stile Mariola come dicevi prima è un po' come il rock così freddi della chitarra cioè un po' c'è una chitarrona enorme è proprio quello che quando ascolti c'è Jimmy Hendrix chiaramente c'è clap ci sono dei chitarroni però a me Steve Ravogan quando l'ho ascoltato ho detto mamma mia ma come suona lui e un po' fai il fett a tanta gente così quindi capisco anche Britti perché fai molto bravo Britti qual'è la cosa la cosa più strana che ti ha regalato o che ha fatto una fan per te cioè ti è mai arrivato un regalo strano da una fan una cosa che ti è rimasta impresso no cose pure inquietanti no una cosa bellissima molto spesso mi regalano il vino perché hanno capito secondo me perché tu perché tu hai anche un'etichetta io faccio il vino anch'io sì io quando ho fatto diciamo ho cominciato a guadagnare con la musica cioè ho fatto due soldini col fatto che il mio nonno si andava in io davo la mano il mio nonno in campagna che lui va a questa campagna dove facevamo il vino l'olio ma era famigliare il vino del mio nonno era un vino imbevibile che però noi si beveva noi vicini cioè noi lo portavamo come amici perché era un vino che era allucinogeno perché erano quei vini di campagna cazzo quello che le so devi bere gazzosa bravo che è peggio perché così ti monta più la botta perché gli zuccheri entrano nel sangue quindi è volavi però potrei becchiai volavi però era insomma lo bevi così tappavi il naso e quindi insomma in onore suo ovviamente il mio vino è molto buono e faccio il blend io con Sapaio che è una cantina di Bolgheri che è tra le più buone di Bolgheri Bolgheri è una zona toscana non so se lo riuscete perché il vino è il top e l'ho chiamata appunto nonno hollywood e questo è il secondo anno che lo faccio quindi insomma e lo possiamo comprare diciamo online online no non l'ho fatto per adesso lo faccio solo lo vendo solo in Toscana ma faccio duemila bottiglie faccio poco però lo faccio proprio per non è nemmeno un business cioè bevo gratis no ci riprendo no è proprio ci poco la vacanza magari è proprio una cosa che l'ho fatta per concetto per il mio nonno c'è una cosa che mi piace sono contento è una passione però non è un lavoro qualcuno qui l'ha mai bevuto il vino di eh no è tutto scatto eh vabbè però no no però in realtà ti lo avete due mila bottiglie due mila bottiglie quelle non ci bastano per tutto non bastano per tutto è potuto portare tu potrai ho detto vabbè cioè proveremo ad assaggiarlo potremmo fare un accordo qua con il riversagli facciamo vendere il vino dei negiotti no ma in realtà tanti mi dicono ma perché perché alla fine me lo vendo lì poi poi me lo voglio no scherzo no però sei geloso del tuo vino no no mi piace che ancora cominciai piano piano che magari vada più nei posti quando eh è più conosciuto come vino buono che il mio vino quindi Natali compleanni cene se ti invita un amico a casa sanno che ti arrivi col vino tuo no no eccolo l'altra volta come la stella di Natale si è portato quel vino di merda è successo sulle mensole tutti gli anni no in realtà sono anche cioè in realtà non è che nemmeno che lo bevo tanto io perché poi lo vendo tanto prendo ogni tanto qualche cassa solo che quando prendo le casse mi durano pochissimo perché magari appunto la porto l'amico poi l'amico viare oh mi fai vedi un no hollywood e poi è ganso perché quest'anno ho fatto l'annata nuova quindi c'è anche chi mi fa oh ma l'annata 2020 era più buona guarda quest'anno è più buona quindi c'è anche questa diatriba ora tra le annate quindi le fan o i fan ti regalano il vino e mi ricordo che te lo tirano sul palco me lo tirano proprio lo sputano no mi hanno regalato il vino anche tanti braccialetti eccetera però mi ricordo in particolare una volta mi è arrivato e quella era bellissima a Mestre ero al teatro insomma feci ero un tournée io faccio i teatri quindi ero un tournée a Mestre in teatro andammo in albergo e mi ricordo che fuori all'albergo questa ragazza mi dette questa bottiglia di vino rosso con l'etichetta e poi parolosalmente poi ho fatto il vino quindi è strano con l'etichetta dove c'ero io tra le altre cose con una maletta cioè senza maletta con la bicchiere di vino il vino del Nigio ed era buonissimo tra l'altro cioè stavi a petto nudo sì non so se era una foto mia vecchia sì però mi ha fatto bellissimo ce l'ho sempre quella bottiglia in casa l'ho tenuta da non l'hai bevuta no no l'ho bevuta subito la sera però ho tenuto la bottiglia c'è la bottiglia sì sì e invece da è una curiosità che ho sempre una domanda che faccio spesso ai musicisti come fai durante un concerto ti capita mai di scordarti le parole dei testi sì cioè proprio io ti prende magari il panico non so come può essere che ti dimenti una frase ma guarda io volutamente non ho mai voluto il gobo cioè il gobo in gergo si dice gobo non perché c'è un gobo no perché è proprio praticamente io ho sempre sognato che c'è un gobo con le parole dietro invece non è sarebbe sarebbe bellissimo poi se potrebbe anche questo è body shaming comunque voglio fare la parte corretta del podcast perché poi io devo fare i tagli però se potrebbe lavorare le categorie protette capito quindi ci potrebbe essere vabbè però si chiama gobo e praticamente è questo schermo che c'è davanti dove c'è il testo però io sono sempre stato non contrario non devi farlo io non l'ho mai voluto perché secondo me quando canti cioè devi cantare secondo me non devi leggere devi interpretare e se te leggi stai già facendo un'azione che è diversa da interpretare per cui preferisco cercare di impararmi meglio i testi delle volte qualcuno me lo metto lì però ogni tanto sì mi scordo la parola fai la cosa che canta il pubblico quando cioè se dimentichi un pezzo sì se la sanno sì no però sì sì succede che poi magari non non se ne accorge nessuno sai il conto è a me è successo allora al verissimo al verissimo ho fatto nina nanna l'ultima volta e mi hanno anche detto ma vuoi il gobo? no me ne scrivo ah bravo grande grande oh in diretta l'ho lasciato bella c'è stata una frase una frase che ho cantato in aramaico cioè non era italiano te lo giuro io ho detto no ma che ho fatto prima ma me ne scrivo io sentì quando sono uscito è venuto e dice tutto bene benissimo poi la fanina carinissima e ho detto guarda io mi sa che ho sbagliato il test no no va benissimo tutti no va benissimo cioè c'è proprio una frase sono tre parole che ho detto una cosa che non ha senso è aramaico vabbè è andata quella è una piccola figura di merda sì poi prima prima di chiudere ci sono domande dal pubblico oggi le vorremmo rifare visto che ci sono dei fan qui sapete delle curiosità a decore sulla vita privata o pubblica di Enrico potete sfruttare quest'occasione questa era una domanda che solitamente facevamo vedi perché ne hai fatta stasera perché io l'ho fatta lui è meglio con la domanda che facciamo noi solitamente è con chi ti piacerebbe collaborare c'hai un sogno un desiderio anche magari qualcuno cantarci insieme non lo spero a me piace da morire ad esempio che è romano che secondo me è il più bravo di tutti e a me piace da morire Niccolò Fabi cioè è come se fosse una stanza che quando vado cioè che ogni tanto mi piace entrarci cioè ascolto lui ascolto l'album è come è come leggere un libro cioè mi mette qualcosa addosso di veramente bello però una cosa che mi piacerebbe fare che in realtà è una cosa che fece Capossela con con Albanese che l'ho rivisto l'altro giorno recentemente il video che è bellissimo lui che canta una canzone che si chiama L'ultimo amore che è bellissima e c'è Albanese che fa un suo personaggio di quelli famosi che li mette tipo li metti i fetali insomma sulla coscia insomma è una scena molto teaterale e quello che mi piacerebbe forse a me è fare una roba del genere con un attore a me dicevo prima a lui un altro che mi piace tantissimo ad esempio di attori italiani che secondo me è forse il più bravo uno dei più bravi è Germano e lui Germano cioè perché di solito se io penso che voglio provare a collaborare con qualcuno cioè voglio collaborare con qualcuno che stimo non penso poi a faccio il duetto con lui perché così vado lì o così faccio cioè vorrei uno scambio perché poi è una cosa che al di là della canzone credo che ti rimanga qualcosa di più che è il momento che è l'incontro che è anche l'incontro è un momento magico quindi mi piacerebbe ecco una persona che mi piacerebbe verci una birra perché io non è Niccolò Fabi non so perché e noi mandiamo questo annuncio chissà che che non succeda anche Jennifer Lopez come ha detto Mariola ovviamente però me l'aspettavo un po' questo grande Max Mariola anche Max Mariola vorrei incontrare no Max Mariola lì dovreste fare una ricetta cantare un anzoni che ti fa la carbonara guarda che a Max Max noi le conosciamo se gli iscrivi ci fai la ricetta insieme al 100% io lo seguo da sempre anche se gli iscrivi su Instagram lui ti risponde fate la ricetta insieme te la garantisco io siamo arrivati alla fine di questa puntata di Decore Podcast e noi ringraziamo tantissimo Enrico per il suo racconto concludiamo sempre facendo una domanda nella favola di Peter Pan i pensieri felici servono a staccarsi da terra e a volare via verso l'isola che non c'è e i pensieri felici nella vita di tutti i giorni sono quelli che ci ridanno un po' di serenità solitamente è una cosa specifica a cui ci aggrappiamo una cosa che ci scalda che ci sta vicina qual è il tuo pensiero felice quello che magari usi quando non riesci a dormire o quando c'è un problema una cosa che ti dà un po' di gioia dentro vabbè adesso come adesso sono i figlioli che ti fanno passare io pensare a loro guardarli è come se 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 mi ritornasse il colore è come se in quel momento che ben che è nero la vita o qualcosa mi ritorna il colore li dà colore quindi per adesso sono i figlioli un tempo era come Max Mariola però sono i figlioli che comunque sono frutto sono frutto dell'amore sì grazie arrivano i giotti a te grazie a voi grazie grazie buonanotte divertite tantissimo grazie una produzione d'opcast